Caro popolo d'Egitto, al-salamu alaykum, la pace sia con voi. Con cuore gioioso e grato verrò tra pochi giorni a visitare la vostra cara patria. Desidero che questa visita sia un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente. Un messaggio di amicizia e di stima a tutti gli abitanti dell'Egitto e della Regione. Un messaggio di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo, particolarmente al mondo islamico. Il nostro mondo, dilaniato dalla violenza cecca che ha colpito anche il cuore della vostra cara terra, ha bisogno di pace, di amore e di misericordia. Ha bisogno di operatori di pace e di persone libere e liberatrici, di persone coraggiose che sanno imparare dal passato per costruire il futuro senza chiudersi nei pregiudizi. Ha bisogno di costruttori di ponti di pace, di dialogo, di fratellanza, di giustizia e di umanità. Cari fratelli egiziani, giovani e anziani, donne e uomini, musulmani e cristiani, ricchi e poveri, vi abbraccio cordialmente e chiedo a Dio Onnipotente di benedirvi e di proteggere il vostro Paese da ogni male. Per favore, pregate per me. Su Kran Wata e Hahi Misr. Grazie e viva l'Egitto.